Il parco è chiuso di 1 settembre, in Evermite. Il parco è un po' di più, in cui si è un po' di più, in cui si è un po' di più. Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 la foto è andata. La scuola è stata fatta. Grazie. 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 Grazie.